Buongiorno e benvenuti al nostro appuntamento settimanale sull'analisi dei mercati e del calendario macroeconomico. Quella appena iniziata è una delle settimane più interessanti dell'anno, avremo molti dati importanti e ci sono anche certi appuntamenti chiave durante la settimana da seguire con attenzione. Innanzitutto Trump sarà oggi nel Regno Unito, ci resterà qualche giorno e ovviamente le dichiarazioni del Presidente americano fanno sempre ballare i mercati portando un po' di volatilità. Poi troveremo durante la settimana l'ABC nel giovedì, il venerdì avremo invece il non far payroll e ci saranno un paio di giorni invece dedicate all'Australia e al Canada. Vedremo comunque sia nei prossimi minuti quali sono quindi i mercati più interessanti e quali sono quindi i mercati più volatili della settimana e i dati su cui concentrare le proprie attenzioni. Innanzitutto in mattinata sono usciti un po' di PMI manifatturieri in Europa, il prossimo dato utile da seguire è quello sempre PMI manifatturiero negli Stati Uniti, oggi pomeriggio alle 16, poi si passa a domani dove al centro di attenzione c'è sicuramente l'Australia dove vengono dati in pasta ai mercati molti dati, molte informazioni quali bilancio ai pagamenti, le vendite al dettaglio e il tasso di interesse. Questi due dati sono i più importanti, ovviamente vendita al dettaglio da seguire con attenzione poiché il rallentamento della crescita in Cina ha influito sull'andamento dell'economia australiana, quindi le vendite al dettaglio potrebbero avere un calo e poi c'è il tasso di interesse australiano che potrebbe subire un taglio dello 0,25% proprio nella mattinata di martedì. Vi faccio notare l'ora visto che i dati australiani si sono un po' particolari, eccolo qui 6,30, quindi un orario gestibile comunque sia mattinata presto, poi sempre durante la giornata di martedì avremo altre informazioni come l'inflazione, zona euro, tasso di disoccupazione, sempre della zona euro e ordini totali per quanto riguarda gli ordini industriali negli Stati Uniti. Passiamo ora a mercoledì dove avremo il PIL sempre per l'Australia, un altro dato fondamentale, guardate qua la previsione dell'1,7% rispetto al 2,3% precedente e anche per questo dato che generalmente è molto più precisa la previsione degli analisti rispetto ad altri, il PIL, anche per questo dato che il rallentamento della crescita australiana potrebbe portare la Bank of Australia a diminuire il tasso di interesse. Poi previsione buste paga privati per gli Stati Uniti, alle 2 e un quarto quindi di mercoledì c'è il dato ADP, il dato ADP è un dato che precede di due giorni il più famoso dato dei non farm payroll che in qualche modo misurano lo stesso tipo di situazione, ovvero il mercato del lavoro negli Stati Uniti. ADP è una società privata che emette delle buste paga, ha tantissime società americane, quindi ha un dato molto importante e lo offre due giorni prima dei non farm payroll e in qualche modo viene replicato questo dato da una fonte ancora più autorevole che il ministro del lavoro degli Stati Uniti venerdì, quindi due giorni dopo, i due dati sono sempre molto simili, guardate un po' precedenti 275 mila contro 263 mila il dato dell'ADP con fronte a quello del ministero del lavoro, previsione 185 mila per l'ADP e 183 mila per i non farm payroll, quindi vedete che i due dati sono sempre molto correlati, quindi avere il mercoledì il dato può essere un ottimo strumento per fare delle valutazioni per il venerdì. A supporto del dato dei non farm payroll di venerdì abbiamo il nostro seminario online che copre proprio il dato sui non farm payroll, basta andare su formazione, dopodiché webinar ed eventi, avete qui la lista dei nostri seminari proposti, 7 giugno webinar sui non farm payroll, l'appuntamento è le 14 e un quarto, poiché alle 14 e un quarto c'è il dato, spiegheremo un attimino in dettaglio che cosa sono i non farm payroll e che cosa ci aspettiamo, basta cliccare su iscriviti ora, registrati, si viene rimandati alla pagina di registrazione dell'analisi in tempo reale del non farm payroll del programma GoToMeeting che è quello che utilizziamo poi per fare il webinar. Questo venerdì, quindi venerdì alle 14 e un quarto inizia il webinar, 14 e trenta invece c'è il dato che viene considerato più importante del mese, sempre il primo venerdì del mese. Passiamo ora alla giornata di, no sempre mercoledì con le riserve di greggio, ovviamente il dato fondamentale per le riserve e poi giovedì dove sicuramente l'appuntamento più importante resta quello della BCE, eccolo qui 13 e 45 il tasso di interesse e poi la consueta conferenza stampa di Draghi. Per quanto riguarda venerdì, oltre alle buste pagano agricole, quindi il rapporto sull'occupazione degli Stati Uniti, abbiamo anche il rapporto sull'occupazione del Canada, stesso orario che vuol dire che la volatilità sul dollaro e sul dollaro canadese è ai massimi, ovviamente se noi andiamo a prendere il cross dollaro contro dollaro canadese otteniamo lo strumento finanziario più volatile in quei minuti e sicuramente lo andremo quindi a controllare venerdì insieme durante il webinar. I grafici che vi propongo sono quello del DAX, dell'Italia 40, Bitcoin e dollaro contro dollaro canadese, vediamo il motivo. Abbiamo il Germany 30 in discesa, all'interno di questo canale di breve periodo sembra ormai orientato verso il basso, vedremo quali saranno i prossimi livelli di supporto, direi che questo minimo fatto il 25 marzo potrebbe indicarci un buon livello, il minimo di questa candela, quindi 11.270, vedremo se continuerà. Cosa fare in questo momento? Siamo sulla parte più bassa del canale, quindi potrebbero esserci rialzi nelle prossime sedute del Germany 30, quindi attendiamo il Germany 30 in questa zona, nella zona più alta del canale per poter andare short su livelli più interessanti e difendibili. Passiamo al Bitcoin che sta avendo veramente un paio di mesi di rialzi incredibili, siamo passati da sotto i 4 mila a oltre gli 8 mila dollari, sembrano ormai tornati i tempi in cui la volatilità e i rialzi sul Bitcoin erano notevoli, quelli di fine anno del 2017, c'è ancora tanta strada da recuperare, però anche per questo diventa ancora più interessante. Dopo le fiammate, guardate un po' che cosa succede, dopo le fiammate c'è sempre una pausa di un paio di settimane, quindi ci aspettiamo ancora 4-5 giorni di pausa sul Bitcoin e poi sicuramente ritornerà la volatilità su questa criptovaluta in salita o in discesa. Ci stiamo avvicinando ai 10 mila dollari che ovviamente rappresenta un livello particolare, un livello psicologico e di conseguenza da monitorare, il superamento dei 9 mila dollari comunque si apporterebbe a un'accelerazione verso i 10 mila. Il livello 10 mila sarà sicuramente molto più difficile da superare. Passiamo all'indice italiano, l'Italy 40 è in discesa, qui il canale è veramente molto stretto, quindi si può anche non aspettare il ritorno sulla parte più alta della trend line negativa, anche se è ovviamente consigliabile. Possiamo anche ipotizzare un ritorno verso i 20 mila con un test per poi un ritracciamento e un conseguente ribasso. Quindi in questo caso la condizione migliore, visto che c'è stato anche un gap tra la candela di giovedì e quella di venerdì, c'è la possibilità magari di aspettare l'Italy 40 vicino ai 20 mila per poter prendere lo short a un prezzo ancora più interessante. In questo momento il trend di medio periodo è sicuramente quello ribassista. Il supporto più interessante è questo, guardate il 19 mila 300 punti, ormai ci siamo anche molto vicini, quindi a breve scopriremo quale sarà il destino del nostro indice. Dollar contro dollaro canadese, come vi dicevo interessante per la giornata soprattutto di venerdì alle due e mezza, quando entrambi i paesi andranno in rapporto sull'occupazione. Eccolo qua all'interno di un trend rialzista sulla parte più bassa del canale, ormai possiamo concentrarci su questi due livelli dinamici, su queste due trend line, possiamo monitorare l'andamento all'interno di questo canale. Il trend è rialzista e quindi insomma in questo momento preferiamo posizioni al rialzo. Un altro mercato che potrebbe essere interessante per questa settimana ovviamente è il dollaro contro il dollaro australiano, perché ovviamente abbiamo visto che ci sono tanti dati in attesa, li rivediamo con anche un tasso di interesse che potrebbe essere tagliato sul dollaro australiano. Eccoci qui, perfetto. L'Australia avrà quindi due dati importantissimi domani, uno dei quali è proprio il possibile taglio dei tassi di interesse, ovviamente un taglio dei tassi, che cosa potrebbe portare? Una forza nuova sul dollaro rispetto al dollaro australiano. Quindi prendiamo il grafico del dollaro australiano, eccolo qua. In questo caso abbiamo il dollaro australiano contro il dollaro, quindi una forza del dollaro potrebbe riportare nuova debolezza del dollaro australiano e quindi questo trend ribassista potrebbe ricominciare a prendere piede. Non ci sono supporti che possiamo considerare, perché guardate un po' che grafico che abbiamo. Ora l'RSI sta ripuntando verso l'alto dopo questo rimbalzo che è cominciato a metà maggio, però ecco un taglio dei tassi anche se è riportato dagli analisti potrebbe portare nuova debolezza sul dollaro australiano, quindi un ulteriore ribasso. D'altra parte, se ci dovesse essere la sorpresa, ovvero nessun taglio dei tassi per l'Australia, ecco che potremmo vedere un dollaro australiano in ripresa magari verso quota 0,70. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che c'è la possibilità di registrarsi gratuitamente ai nostri webinar e vi ricordo anche il nostro canale YouTube su cui è possibile iscriversi per ricevere la notifica ogni volta che andiamo a registrare un video su YouTube, quindi basta andare a cercare CMC Markets Italia su YouTube e cliccare su iscriviti e nel caso in cui vi piaccia qualche video in particolare, per farcelo sapere, con il mi piace all'interno della pagina di YouTube in modo tale che possiamo concentrare le nostre forze su quei video che ricevono più mi piace e abbiamo anche ovviamente la pagina Facebook da una parte, sempre CMC Markets Italia e Twitter dall'altra per non perdere nessun appuntamento tra notizie, webinar ed eventi. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a settimana prossima. Grazie a tutti.